Quartuccio, patria del pane e dei dolci. Si è appena conclusa la 32esima edizione della Festa del Pane, protagonista indiscusso in tutte le sue forme e sapori della tradizionale manifestazione volta alla riscoperta degli antichi saperi, per chi già li conosce e per chi arriva per la prima volta nella cittadina del Cagliaritano. Si tratta di vere e proprie opere d'arte, al di là del fatto della loro bontà, ma anche esteticamente hanno una presentazione bellissima, tant'è che nel Campidano Quartuccio, Selarjus e Quarto vantano questa eccellenza. A proposito di investire quindi in questo campo, riscoprire le proprie tradizioni, i propri saperi fa bene alla comunità, ma sicuramente può essere un investimento anche dal punto di vista turistico? Direi proprio di sì. Intanto secondo me bisogna rivicinare le nuove generazioni che in un certo senso si sono un po' allontanate da questi saperi, cioè incentivandoli e facendoli capire quali sono le potenzialità. Dietro alla riuscita e ormai collaudata iniziativa, un lungo, appassionato e minuzioso lavoro da parte della Proloco. Anna Chiara Loi, la presidente della Proloco di Quartuccio. Entrare nello spazio espositivo della mostra del pane dei dolci, immediatamente si ha la sensazione di essere davanti a delle opere d'arte vere e proprie, non solo davanti a dei lavori di alto artigianato. Quanto lavoro c'è per organizzare una mostra come questa, Anna? Allora, diciamo che lavoro ce n'è parecchio, non ho un altro termine per definire oltre parecchio, perché solo chi è dentro queste cose può capire cosa c'è prima, dopo e durante. Tramandare le tradizioni è una cosa importante, è il patrimonio dell'umanità. Se perdiamo queste tradizioni, perdiamo la memoria collettiva, perdiamo la nostra memoria storica. Anna, più o meno quanti tipi di pane ha potuto contare in questo suo lungo lavoro? Almeno, proprio quelli principali, una ventina, parliamo del suo occodio, del suo modizioso, del pane degli sposi, del pane con savipia, del pane con l'uovo, del pane per le feste. Il pane veramente è una cosa che si può fare con tutti gli ingredienti, diciamo, ecco.